Quello che voglio dire a questi signori senatori e senatrici che si sono permessi di portare al processo una persona che stava difendendo il proprio paese, le proprie coste, ma soprattutto le coste siciliane, dove in questo momento stanno arrivando migliaia e migliaia di estracomunitari, sapendo che c'è un'emergenza del coronavirus e che nessuno deve arrivare sul nostro paese, loro si permettono di fare questo. E oggi che cosa sto vedendo? Che vogliono processare a Salvini perché hanno capito che Salvini sta diventando un punto fondamentale di questo paese e loro hanno questa grande paura di perdere le prossime elezioni. Voi che vi siete mangiati l'Italia. Mio caro Matteo Renzi, a te ti devono processare per tutto il male che hai fatto in questo paese. Tu hai fatto il contratto, il contratto con questi signori per far arrivare migliaia e migliaia di estracomunità. Ma non vi vergognate, non vi vergognate. In questo caso, miei cari siciliani, è l'unica persona che stava facendo il bene sulla nostra Sicilia, sulla nostra costa. E dobbiamo vedere questi parassiti che si permettono di mandare a processo una persona che stava facendo soltanto nel bene. E noi dobbiamo attaccare a Salvini perché ce lo dice Renzi, perché ce lo dice il signor Di Maio. Ma stavate governando insieme. Qualsiasi iniziativa si prendeva all'interno di un governo. Voi eravate presenti e dicevate sì. Oggi dobbiamo processare una persona che stava difendendo la Sicilia. Mi dispiace, siciliani, ma gli do ragione. Gli devo dare ragione perché quello che sta succedendo momentaneamente sulle nostre coste è una cosa vergognosa. E se noi richiuderemo di nuovo l'Italia, lo dobbiamo a loro, perché sono loro che stanno portando il coronavirus sul nostro paese. Solo per noi c'erano giustamente le linee che dovevamo rispettare, le misure. Siamo stati 50 giorni chiusi in casa a fare che cosa? I pagliacci e poi dobbiamo vedere che questi signori arrivano con il balcone, arrivano con i barconi belli vestiti, scarpe da 100 euro, magliettine giustamente di marca, gli occhiali, con il cagnolino vengono pure. Io non sono d'accordo con questi signori della sinistra. Oggi l'unica persona che deve essere difeso, mi dispiace per voi, amici miei, è il signor Matteo Salvini.